Incredibile ma vero, dopo mille peripezie, mille spostamenti, quello che sarebbe dovuto essere il film di apertura della fase 4, arriva finalmente al cinema. Black Widow è qui e soprattutto, sarà stato un film soddisfacente oppure ormai un film scaduto? La verità è nel mezzo. Ebbene sì, dal 7 luglio al cinema e dal 9 luglio su Disney Plus con accesso VIP, finalmente avremo l'onore, il privilegio, la fortuna di vedere Black Widow, il film l'origin story su uno dei personaggi degli Avengers più carismatici e intriganti di sempre, ovvero Natasha Romanoff, la vedova nera. Cosa dobbiamo aspettarci da questo film? A differenza di quello che ci hanno effettivamente raccontato i trailer, che no, non vi preoccupate, non ci hanno detto tutto, anzi, ce l'ho detto solo una minima parte, beh, questo film che si ricollega direttamente a Civil War è un film stand alone che indaga sull'aspetto molto più emotivo, molto più sentimentale di Natasha. Scarlett sembra effettivamente ringiovanita, a rivederla sullo schermo, beh, fa un pochino male al cuore, soprattutto perché pensare agli Avengers senza più Natasha, senza più la nostra vedova nera, fa leggermente male. Sicuramente partiamo dai difetti del film e in dubbio che dopo aver visto già WandaVision, dopo aver visto Falcon and the Winter Soldier e in questo periodo Loki, beh, il film non ci sembra poi così rivoluzionario e da un certo punto di vista è un po' un'occasione sprecata, perché forse per il film che finalmente avrebbe celebrato completamente la figura di vedova nera sullo schermo, ci saremmo aspettati qualcosina di più. Però la chiave di lettura sta proprio in questo, sta proprio nella parola celebrazione. È un film che celebra Natasha, è un film che va indietro nel passato e soprattutto esplora il punto di vista molto più profondo, molto più intimo, è anche crudo di questo personaggio, che sicuramente all'inizio l'abbiamo conosciuta come una spietata spia, uno spietato sicario e invece poi con l'andare avanti del tempo ci rendiamo conto di quanto invece l'umanità di Natasha sia estremamente complessa, estremamente fragile e del resto questo è completamente in linea con la fase 4 dell'MCU. Se ci pensate, a partire da WandaVision fino ad arrivare a Loki, quasi tutti questi personaggi finalmente hanno un inquadramento molto più profondo, una caratterizzazione intima decisamente più interessante, che quindi non si basa unicamente sulle slappe e pacconi, che per carità ci piacciono tanto, ma cominciamo a vedere gli effetti di una vita passata a combattere, passata a salvare gli altri e non preoccuparsi mai di se stessi. Detto questo però non è che manchino le scene d'azione, anzi tutt'altro, ci sono delle sequenze adrenaliniche, soprattutto quelle ambientate a Budapest, che sono eccezionali, sono veramente veramente straordinari e vi faranno venire anche un bel po' di batticuore. Il film dura due ore e un quarto all'incirca, ma vi posso assicurare che a stento ve ne accorgerete. Fila via come l'olio è incalzante, l'empatia ovviamente ai massimi livelli, ma soprattutto venite agganciati dall'inizio alla fine. È molto interessante analizzare tutta quella che è la struttura della stanza rossa, come vengono addestrate, le vedo venere. E da un certo punto di vista possiamo anche dire che questo film è un po' una riflessione su un certo tipo di società, su quella che è la continua ed estenuante lotta fra generi, su come viene stereotipato, su come viene analizzato e oggettificato il corpo della donna, l'uso, definiamolo in questo modo, del ruolo della donna nella società. Questo è uno degli aspetti più interessanti e attuali del film, che però, attenzione, non vuole di certo scivolare nel moralismo, assolutamente no. Alla fine il film vuole inquadrare il passato, il presente, e diciamo in qualche modo anche il futuro di Natasha, mettendolo ovviamente a confronto poi con quella che è stata la sua famiglia. Ed infatti in questo spiccano incredibilmente, primis fra tutti Florence Pugh, eccezionale, straordinaria ragazzi, Florence la vedremo e la rivedremo in tantissimi altri ruoli e chissà se non prenderà le redini di tutto questo. E poi anche Rachel Weisz, che funge un po' da madre e da primissima vedova in assoluto. Ecco, la chimica di queste tre donne, quindi non una, non due, ma bensì tre, e poi aumenteranno molto di più, è eccezionale. Un po' di delusione invece per quanto riguarda forse il villain, la parte cattiva, diciamo, di questa storia, che sì, sicuramente è molto più complessa. Alla fine questa storia è un modo per guardarsi indietro, per poter andare avanti, risolvere quelli che sono i famigerati scheletri negli armadi, no? I fantasmi che ci lasciamo dietro nel passato, che però in un modo o nell'altro devono essere eliminati per sempre. Al tempo stesso però una caratterizzazione maggiore del villain non ci sarebbe dispiaciuta, che forse viene un po' buttato così, viene un pochino sprecato. Nonostante questo, il film non è affatto un film scaduto, sicuramente un film che non rispecchia completamente le aspettative rispetto alle serie tv di cui stiamo fruendo negli ultimi periodi, ma proprio perché cronologicamente parlando è un film che sarebbe dovuto arrivare molto molto prima e questo purtroppo un po' ne risente. Al tempo stesso però è un film che riesce a coinvolgere, a intrattenere, va oltre il popcore movie e soprattutto è molto bello il modo in cui viene approfondito il personaggio di Natasha. dispiace ancora una volta di non poter rivedere ancora e ancora sullo schermo Scarlett Johansson e quel suo sorriso che farebbe svenire chiunque, ma vedremo quello che l'MCU ha in fondo in serbo per noi. Quindi quello che posso dirvi è andate a vedere Black Widow perché secondo me ne resterete assolutamente soddisfatti, ovviamente contestualizzando il fatto che è un film che sarebbe dovuto uscire comunque un anno e mezzo fa. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, io sono Gabriella, mi raccomando, pollicione in su se il video vi è piaciuto, lasciatemi i vostri commenti, attendete questo film? Non lo attendevate più? Quali sono le vostre aspettative? E iscrivetevi al canale di Lega Nerd, attivate la campanella per restare sempre connessi, sempre aggiornati con i nostri video. Grazie a tutti!